Non vorrei dimenticare Salò che è stato il mio trampolino di lancio, perché comunque ho passato 5 anni lì, l'anno prima ero a Bergamo in Serie B all'Albino Leffe, però sì, il clou l'abbiamo raggiunto l'anno scorso e in questi 6 mesi con la squadra. Al mister ho parlato con il mister del portiere Scarabrelli che lo conosceva, di termo qua ho parlato con Palma che è stato qua l'anno scorso, poi conoscevo Ilari e vabbè spieghi che è arrivato praticamente con me, l'anno scorso ci abbiamo giocato contro e adesso eccomi qua.